aiuti e manifestazioni non si ferma la solidarietà all'ucraina caro gasolio i pescherecci scioperano e restano in porto servizio civile scade il bando ma mancano ancora candidature porto futuro viaggio alla scoperta della marineria fanese sport moto da sogno la vl riparte con una sconfitta buona serata buona serata a voi amiche amici di rossini tv riparte un'altra settimana in compagnia dell'informazione serale di rossini news il nostro telegiornale che in questa prima edizione di lunedì 7 marzo apriamo occupandoci ancora una volta dei riflessi sul nostro territorio di quanto sta avvenendo in ucraina e tanta la sensibilità dei pesaresi che si sta mobilitando in questi giorni basti vedere quante donazioni stanno arrivando alla sede della protezione civile di pesaro dove questa mattina si sono accese le nostre telecamere più di 50 quintali di materiali raccolti e questo il peso della generosità dei pesaresi e questa la quantità di prodotti destinati al popolo ucraino in fuga dalla guerra dall'invasione bellica della russia sta arrivando di tutto qui alla protezione civile nella sede di via lombardia dove i pesaresi possono portare questi materiali dalle 9 alle 11 di mattina e dalle 17 alle 19 di pomeriggio si raccoglie di tutto si raccoglie da merendine latte succhi di frutta tè legumi scatolame prodotti per l'igiene dagli assorbenti ai pannolini alla stessa carta igienica tanta generosità accumulata in cinque due giorni di raccolta ci sono molte donazioni infatti stiamo riempendo perché ancora siamo abbiamo qualche problema con le spedizioni però abbiamo addirittura anche i furgoni pieni di conseguenza arriva molta gente c'è molta solidarietà da parte di pesaresi e dunque si può portare il materiale qui alla sede della protezione civile in alternativa per avere informazioni c'è il numero attivato in collaborazione tra comune di pesaro e protezione civile lo 0721 387616 SOS Pesaro per l'Ucraina ripetiamo si raccoglie qui il materiale materiale che al momento è stoccato non c'è ancora la costruzione di un canale diretto verso l'Ucraina o perlomeno verso il confine ma si conta di crearlo a breve noi facciamo due tipi di assistenza diciamo così alla gente che arriva a peso le famiglie che si ricongiungono qui con i pesaresi diamo qualcosa quello che ci chiedono in più ricopriamo questa roba per mandare appunto in Ucraina e mi stanno dicendo quelli che stanno organizzando che domani dopo domani dovrebbe aprire questo canale con l'Ucraina prima la pandemia ora gli aiuti all'Ucraina non c'è che dire la protezione civile è sempre in prima linea oggi conta 130 iscritti a pesaro ma potrebbe averne ancora di più dopo che notizia di oggi il prossimo consiglio comunale su proposta dell'assessore Enzo Belloni metterà ai voti l'ampliamento di adesione al volontariato dai 16 anni in su anziché da 18 e fino agli 80 anni anziché fino ai 75 previsti attualmente non solo aiuti all'Ucraina ma anche tanti piccoli e grandi gesti di mobilitazione le immagini che vi mostriamo ora riguardano infatti il tardo pomeriggio di sabato quando circa 300 ragazzi hanno assiepato piazza del popolo illuminandola di lanterne bandiere della pace e bandiere dell'Ucraina una manifestazione alla quale hanno aderito la maggior parte delle sigle degli scout pesaresi partiti in corteo dalla parrocchia dei cappuccini è arrivata anche in rappresentanza delle parrocchie di san luigi san giovanni loreto soria borgo santa maria e santa veneranda non solo scout la mobilitazione continuerà in diversa forma anche venerdì 11 marzo col comune di pesaro che organizza l'evento in bici per la pace per l'ucraina pace ma anche ambiente perché la biciclettata partirà alle 17 30 dall'ex amga di via morosini con la piantumazione di alberi per la bonifica dell'area a seguire ci si sposterà in piazza del popolo con la fiaccolata per la pace che illuminerà la piazza spenta per la giornata dedicata al risparmio energetico in occasione della campagna nazionale mi illumino di meno e poi ci sono i riflessi economici della guerra uno dei più tangibile è il continuo rialzo quotidiano dei prezzi di benzina e di gasolio prezzi talmente alti che hanno indotto addirittura i pescherecci marchigiani a scioperare per una settimana e restare in porto vediamo a tal proposito il servizio realizzato da eduardo razzi il pesante rincaro del gasolio ha fatto spegnere i motori dei pescherecci nazionali per una settimana una decisione presa in un'assemblea civita nuova alla quale hanno aderito anche le marche e di conseguenza tutte le barche adibite alla pesca per sette giorni rimarranno ferme al loro porto scelta forzata da parte degli armatori che si sono ritrovati con le spalle al muro dopo che il costo del gasolio è salito da 39 centesimi nel 2020 a circa un euro a marzo 2022 in attesa di un sostegno da parte del governo sono 750 le imbarcazioni della regione marche che hanno deciso di non salpare lasciando a casa 1.400 dipendenti che di conseguenza andranno sotto cassa integrazione i pescherecci oggi come oggi si troverebbero a spendere 3.000 euro al giorno per svolgere il loro lavoro spendendo di più rispetto a quello che guadagnerebbero in 24 ore il lavoro dei pescatori che si inoltrano in alto mare richiede da sempre tanto sacrificio con la partenza fissata alla mezzanotte della domenica e il ritorno alla mezzanotte del giovedì e visto l'aumento dei prezzi per poter alimentare le loro barche hanno deciso di fermarsi il settore nelle marche con cinque mercati ittici principali e di grande importanza sono 21.000 le tonnellate di pesce raccolto pari all'11 per cento della produzione nazionale con 100 milioni di euro di fatturato annuo nella giornata di mercoledì le associazioni di categoria si riuniranno a roma per un incontro al ministero dove l'intenzione da parte degli addetti ai lavori è quello di far rientrare la categoria della pesca tra quelle che verranno inserite nel prossimo decreto un sostegno fondamentale per poter far ripartire i pescherecci altrimenti come da loro affermato le barche rimarranno ormeggiate alle bitte una situazione dovuta chiaramente allo scontro militare che sta avvenendo in ucraina con la conseguente impennata dei costi per il rifornimento di carburante il rischio al quale si va incontro è che gli italiani d'ora in avanti dovranno abituarsi per un tempo non definito ad accogliere sulle proprie tavole del pesce non più nostrano ma importato dall'estero incendio questa mattina a urbino in località santa annunziata e via le logge dove ha preso fuoco un edificio di due piani i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando che si propagassero all'interno degli appartamenti non si segnalano persone coinvolte vigili del fuoco che ieri sera sono invece intervenuti nel parco san bartolo per liberare un capriolo rimasto incastrato in un cancello attraverso un divaricatore è stato liberato ma viste le ferite riportate è stato consegnato alle cure del centro recupero animali selvatici mercoledì 9 marzo scade il bando per il servizio civile universale ma nonostante diverse proroghe ci sono ancora diverse candidature vacanti ultimi giorni per aderire al bando del servizio civile universale che già a gennaio fu prorogato di sei settimane c'è infatti tempo fino alle ore 14 del 9 marzo 2022 per presentare domanda di candidatura al portale serviziocivile.it che consente di reclutare giovani fra i 18 e 28 anni disponibili a progetti di un anno ricompensati con 444 euro mensili e positive ricadute per la comunità in termini sociali e formativi 38 i posti disponibili fra associazione e enti nel pesarese eppure rimangono ancora candidature vacanti ci sono progetti organizzati dal comune di pesero altri da cna e poi ancora croce rossa acli associazione italiana sclerosi multipla unione pro loco fino all'unione italiana ciechi e ipovedenti che ancora non ha trovato tutto il personale giovane utile per completare le esigenze dei suoi servizi e abbiamo ancora sì poche domande e quindi avremo se la situazione permane così alcuni posti che non riusciremo a coprire e questa è una situazione un pochino generale e ci dispiace molto perché il servizio civile comunque un'occasione veramente di vita cioè di conoscenza e di crescita oltre che comunque è un impegno che il ministero remunera in qualche modo quindi anche per un ragazzo che fa l'università oltre ad avere un'esperienza veramente formativa ha anche un minimo di autonomia economica è un'esperienza veramente di crescita e di comprensione di quello che può essere a volte un limite ma a volte in realtà un vero e proprio modo di sentire il mondo e di percepirlo in modo diverso quindi invito tutti i giovani che in questo momento magari non stanno non hanno dei progetti o comunque anche se li hanno è importante che affianchino al loro bagaglio anche lavorativo comunque universitario un'esperienza che possa arricchirli e farli crescere anche sotto l'aspetto umano e personale. sabato a Fano si sono svolte le prime visite guidate dell'esposizione permanente denominata il mare il porto e le sue genti l'iniziativa è volta a diffondere la cultura e le tradizioni marinare che hanno fatto la storia della città fanese e che sono inserite nel progetto porto futuro il mare il porto e le sue genti non poteva avere un nome più eloquente l'esposizione permanente dedicata alle grandi tradizioni marinare fanesi e soprattutto ai marinai stessi sabato 5 marzo le prime visite guidate in via Puccini 22 in zona Lido per divulgare la grande storia della città la quale inevitabilmente è una cosa sola col mare il porto e appunto le sue genti lo sanno bene gli appassionati componenti dell'associazione ridosso ex lupi di mare grazie ai quali il progetto porto futuro che mira a regalare una seconda giovinezza all'area portuale si arricchisce di un nuovo importante tassello partiamo con anche con l'esposizione permanente quindi fotografie stampe e quant'altro partiamo dal 1600 perché partiamo dalla darsena borghese che in qualche modo è stato il vero primo porto della città di Fano la mostra è una mostra fotografica quindi con foto alcune in esclusiva alcune che noi abbiamo comunque trovato nel nella biblioteca federiciana qui a Fano e altre e poi abbiamo dei modellini di alcune barche diciamo quando erano a vela perché un po la storia eccetera poi abbiamo le attrezzature della pesca e quindi vari tipi di rete i vari tipi di anche pesca diciamo più semplice quindi nasse cestini e cose di questo genere poi abbiamo una bella dotazione di attrezzature per della canteristica ma la canteristica quella post bellic post guerra diciamo dove si usavano le attrezze a mano non quelli con la vetroresina così e poi abbiamo tantissima documentazione video abbiamo addirittura un video dell'istituto lauce perché fa vedere come funziona come funzionava la realizzazione delle barche noi andiamo a parlare con i vecchi marinai sono loro che ci raccontano le storie quello che è avvenuto quando magari qualcuno andava ancora a vela adesso purtroppo non ci sono quasi più però per esempio il nostro esperto un nostro socio e lui quando va nelle scuole racconta la vita di mare cioè quello che era quando andavano a pesca negli anni 40 50 e avanti insomma ecco se vogliamo andare in una certa direzione dobbiamo anche sapere da dove siamo partiti l'esposizione come detto è permanente l'ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione attraverso il sito web dell'associazione ridosso oppure i contatti social di porto futuro l'associazione ridosso è la memoria storica del porto quindi volendo rivitalizzare le aree del porto noi abbiamo l'obiettivo innanzitutto di recuperare qual è la storia del porto perché proprio porto futuro parte dal passato si sviluppa nel presente per avere un'ottica futuro futuro del porto abbiamo riscontrato ovviamente grandissimo entusiasmo da parte dell'associazione quindi avremo appuntamenti futuri dove cercheremo di mettere insieme l'associazione ridosso con il consiglio dei bambini di fano questo perché proprio per far incontrare le due generazioni come simbolo di scambio portuale all'interno del porto le due i bambini e le persone e le persone adulte e vedere da questa dall'insieme di queste due di queste due generazioni vedere quale sarà il risultato delle idee che ci verranno portate per essere messe in pratica su porto futuro l'idea finale è quella di realizzare un sicuramente di rivitalizzare le aree del porto quindi di realizzare un nuovo spazio per la città di fano che comprenda degli spazi per i bambini ma anche per gli adulti ma anche per i giovani e che avranno centralità all'interno del porto e dal porto di fano torniamo a quello di pesero dove è ufficiale che dopo due anni di pandemia tornerà la regata d'altura peseropola organizzata dalla lega navale di pesero l'appuntamento è fissato dal 4 al 9 di maggio decine di persone si sono ritrovate ieri nel quartiere di pantano per la passeggiata ecologica puliamo pantano scopo e sacchetti alla mano sono state ripulite vie marciapiedi e parchi grazie all'olio di gomito dei volontari del quartiere 12 dell'auser pantano e degli scout cng e i mentre nel quartiere villa fastigi villa ceccolini è stato installato il 56esimo defibrillatore automatico esterno di pesero è stato collocato in via lago di varano nel parco davanti alla scuola di villa ceccolini a donarlo l'associazione villa ce e la cooperativa torcivia nell'ambito del progetto promosso dalle strade di luca tante le iniziative per la festa della donna di domani 8 marzo da celebrare anche a teatro domani alle 21 al teatro sanzio di urbino andrà infatti in scena un feroce e comico ritratto delle donne di ieri di oggi con lina battiferri condominio femminile le donne di franca valeri al teatro sperimentali di pesero invece vanno in scena da domani fino al 13 marzo sempre alle 21 isa danieli e giuliana desio che saranno le protagoniste di le signorine commedia di gianni clementi con la regia di pierpaolo sepe giornata dell'otto di marzo che prevede anche domattina alle 10 l'iniziativa donne in cammino passeggiata tra le vie del centro e del mare promosso da stella scarpa e movens il percorso benessere di due ore alternerà una camminata al ritmo di musica a brevi momenti di attività di educazione al movimento consapevole ritrovo alle ore 10 in via gramsci di fronte al centro stella scarpa ed ora andiamo a vedere il ricco approfondimento del lunedì dedicato al weekend di sport basket calcio calcio a 5 volley rugby ma anche il primo trionfale weekend del moto mondiale copertina dello sport del 7 marzo inevitabilmente dedicata al moto mondiale e alla tripletta azzurra che ha solcato il semaforo verde del campionato nelle weekend del qatar enea bastianini celestino vietti e andrea migno sono i tre moschettieri delle due ruote azzurre che sono di casa nel pesarese bastianini vince una gara incredibile portando il team gresini sul gradino più alto del podio al debutto in moto gp non meno clamoroso il successo in moto 2 di celestino vietti che bagna il debutto del muni team race di valentino rossi tagliando il traguardo davanti a tutti una tripletta completata da un altro prodotto del vivaio vr 46 quella andrea migno dello sniper steam che trionfa alla prima gara stagionale di moto 3 benissimo le moto meno bene gli sport di squadra della nostra provincia dove nelle weekend ha riso solo little service e sono sorrisi larghissimi per la squadra del presidente lorenzo pizza che per la prima volta in stagione si prende la vetta del campionato di serie a merito del blitz in puglia che grazie alla doppietta di onorio e alla rete di salas consente ai pesaresi di vincere 3 a 1 a manfredonia e scavalcare il petrarca padova uscito sconfitto dal campo romano della todis lido di ostia laziali che ora arrivano a pesaro dove domani martedì 8 marzo saranno protagonisti del turno infrasettimanale al palafiera delle ore 20 ride l'ital service ridono meno le altre squadre a cominciare dalla vl che riemerge della sosta prolungata rimediando una sconfitta 86 a 77 un match in cui la carpegna prosciutto pesaro gioca un incoraggiante secondo quarto per poi perdere intensità e partita nel corso del secondo tempo ci siamo aggrappati a un secondo periodo di qualità balistica in attacco e di buona consistenza difensiva nell'altra metà campo prendendo fiducia da quelle giocate dove purtroppo cosa che purtroppo non siamo stati capaci di replicare il secondo tempo non trovando la stessa ispirazione le stesse risorse avendo una difesa troppo permissiva nella quale abbiamo sofferto le penetrazioni dei nostri avversari e anche la presenza vicino all'anello sia sul rimbalzo che tagli dei dei loro lunghi e niente quindi anche se abbiamo dato la sensazione di essere lì fino alla fine per riuscire a giocarcela uno due possessi di distanza ai nostri avversari la realtà è che non siamo stati capaci di giocare con quell'intensità che si addisce soprattutto nei finali di gara in partite così delicate in un frangente di stagione così 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 importante quindi speravo riuscissimo a ripartire dopo la pausa con una partita di altro livello di intensità cosa che purtroppo invece non non è accaduto nel calcio la vis passa dalla super vittoria collentella ad un autentico tracollo in casa del gubbio gli umbri vincono 3 a 0 e sorpassano i pesaresi in classifica decisivi 5 minuti nel cuore del primo tempo che costano il 2 a 0 a stretto giro di posta firmato da bulevardi e bonini nella ripresa spalluto serve il tris e la vis non riesce nemmeno ad addolcire la pillola nonostante due cartellini rossi a favore negli ultimi 20 minuti di gara nel calcio di seredì invece arriva un punto incoraggiante per l'alma juventus fano che al mancini fa 2 a 2 nel derby con la san benedettese ospiti che fuggono con fal nel primo tempo nella ripresa casolla e zanni rivaltano il punteggio fissato dal 2 a 2 finale di cardella sconfitta nel volley la megabox vallefoglia che a perugia cade 3 a 1 in uno scontro diretto che complica la classifica delle tigri biancoverdi sconfitta a testa alte invece nel rugby per la fiorini pesaro che nel secondo turno interno consecutivo al toti patrignani combatte ma si arrende ai toscani della cavalieri union prato sesto per 18 a 30 oggi avevamo di fronte una squadra forse più preparata di noi con più esperienza il primo tempo è stato equilibrato e combattuto siamo andati in vantaggio dopo però è venuto fuori appunto diciamo un po più l'esperienza e anche il peso specifico diciamo di giocatore di prato e non siamo riusciti a controbattere in maniera efficace è un peccato perché venivamo da due partite consecutive che avevamo vinte e volevamo vincere in casa nuovamente davanti al nostro pubblico è buono che c'è stato l'esordio di due ragazzi giovani ma si è anche segnato alla fine è tutta esperienza per i ragazzi perché questo è il livello a cui asperiamo il livello a cui vogliamo arrivare e dobbiamo continuare a lavorare duro in allenamento seguire quello che diciamo noi allenatori e completiamo il servizio di sport che avete appena visto dandovi anche notizia del fatto che è stato effettuato oggi il sorteggio delle finale di coppa italia di calcio a 5 che si terranno a salso maggiore terme dal 24 al 27 marzo di tal service che detentrice delle titole è stata accoppiata alla ciampino agniene con la quale giocherà il 24 marzo alle 20 in caso di passaggio del turno di tal service la vedrà con la vincente di matera pescara gli altri accoppiamenti sono petrarca real san giuseppe e roma napoli e con lo sport chiudiamo questa nostra edizione del telegiornale ora vi diamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata del lunedì come sempre dedicata a check up obiettivo salute l'appuntamento che vi tiene compagnia tutti i lunedì alle 21 20 con prima replica alle 23 e 15 format realizzato in collaborazione con fisioradi medical center questa sera parleremo dell'importanza di prevenire i problemi della vista in compagnia dell'oculista il dottor luca brandi a seguire una nostra esclusiva quella con le partite casalinghe della fiorini pesero rugby ne abbiamo parlato poco fa nel servizio di sport ma potrete rivedere tutte le azioni e le mete di questa partita che ha visto i kiwi giallorossi vedersela con i cavalieri union prato sesto appuntamento questa sera alle 21 e 30 la nostra informazione poi torna puntuale domattina come tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 7 e 20 con la diretta di buongiorno rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che nello specifico dell'edizione di domani sarà condotta dalla nostra e manuela rossi termina qui invece questo nostro spazio dedicato all'informazione ora le previsioni del tempo e poi vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di arossini tv